Marzo è mese di switch off, di cambio di canali televisivi, di cambio di frequenze, la stessa Rossini TV della scorsa settimana ha abbandonato il canale 633 per il canale 80, un passaggio in alcuni casi automatico, un passaggio in molti altri casi che necessita di una risintonizzazione, risintonizzazione che a volte può dare problemi e allora oggi abbiamo chiesto il parere degli esperti del centro assistenza Giorgio Giacomini di Via Milano per fornirvi una guida in questa procedura. Affrontiamo quelli che possono essere gli scenari più comuni che principalmente possiamo resumere in tre, quindi clienti che hanno vecchi televisori per niente compatibili con il digitale terrestre che quindi hanno bisogno di acquistare un decoder esterno, clienti che hanno invece un televisore che è parzialmente compatibile o totalmente compatibile che quindi oggi può essere riutilizzato ma in alcuni casi può avere bisogno anche del decoder esterno perché ad oggi la transizione è compatibile. Non è stata completata in toto e quindi adesso vi spiegheremo come eventualmente collegare, riconoscere e vedere qual è il canale che vi permette di capire se il vostro televisore è completamente compatibile con tutti i canali del digitale terrestre. Possiamo esaminare il primo caso di un televisore che è compatibile con i segnali e quindi in questo caso noi dobbiamo semplicemente effettuare una risintonizzazione dei canali. I menu sono più o meno simili su tutte le marche dei televisori però presentano delle piccole diversità. Comunque questo ad esempio è un Samsung, Samsung è una delle marche più diffuse qui a Pesaro e entrando col tasto menu nell'opzione di trasmissione abbiamo la sintonizzazione automatica. Questa procedura permette grazie a un'impostazione che si chiama LCN che è una numerazione automatica in base a una linea guida nazionale di far fare la ricerca automatica dei canali al televisore e di andare a impostare in maniera automatica con la sequenza che c'è in tutta Italia tutti i canali quindi andando su sintonizzazione automatica ok abbiamo l'opzione di sintonizzazione automatica diamo l'avvio e il nostro televisore infatti li vediamo ordinamento canali ordinamento automatico parte in ricerca e va automaticamente a effettuare la scansione la ricerca e va a trovare tutti i canali disponibili sul nostro impianto d'antenna. Esaminiamo adesso il secondo caso, il caso di un cliente che abbia un televisore schermo piatto che ha intorno agli 8-10 anni che ancora è funzionante però non è compatibile con il segnale digitale terrestre di ultima generazione. In questo caso il cliente deve comprare un decoder digitale. Di decoder digitali ne esistono fondamentalmente un paio di tipi il classico modello box oppure il modello tipo stick che si inserisce dietro il televisore e permette di evitare problemi di spazio, di ingombro e rimane più compatto e meno visibile. In questo momento andiamo a vedere con un decoder digitale terrestre DVB-T2 con HEVC-10 che è il nuovo sistema di compressione ci permette innanzitutto di verificare tramite il nostro televisore andando a selezionare il canale 200 se viene fuori questa schermata di test ci dà la conferma che il nostro televisore è già compatibile quindi non abbiamo bisogno di comprare il decoder esterno o un televisore nuovo. Nel caso questa schermata non venga fuori allora dobbiamo collegare il nostro decoder esterno e procedere con la ricerca dei canali. Anche nei decoder la procedura è abbastanza semplice perché entrando nel menu dell'apparecchio andiamo innanzitutto a vedere che è già indicato l'ordinamento dei canali per LCN e entrando nel menu di ricerca dei canali anche qui si va a eseguire la ricerca automatica tutti i decoder come abbiamo detto prima per il televisore procedono a effettuare la scansione automatica dei canali in base a tutte le frequenze del digitale terrestre e una volta trovati i canali a ordinarli automaticamente secondo quello che è il sistema di numerazione nazionale.